Allora Guido, mi consenti di leggere un attimo gli sponsor ancora, allora un grazie sentito, applausi tanti 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 perché ovviamente gli eventi, dietro gli eventi ci sono tante difficoltà e quindi è giusto ringraziare con un grande applauso la produzione di questo evento con la Capri Marketing di Marianna Esposito, voglio sentire applausi, mari di applausi. Il nostro main sponsor Capri Watch, Fonte, Luce e Gas, Porta Costruzioni, Russo Capri, La Violetta di Alberto Viola, Isaia, guarda qua, guarda Guido, yeah! Allora un ringraziamento anche alla fanciulla, alla principessa bionda che ha aperto il concerto di Guido, Valentina De Rosa, un applauso e abbiamo Guido caro per te un premio, eh? Un premio, eh sì, eh sì! Allora due grandi amici di Capri consegneranno questo premio, imprenditori che stanno dando molto a quest'isola, io li farei entrare, Gianluca, Isaia, Gabriele, Fonzone! Eh, con un applauso enorme, prego Guido vieni qui, guadagna il centro del tuo palco, ecco! Come faccio cantare! Ecco qui! Ecco qui! Salve! Prego! Aspettiamo anche il dottor Fonzone, prego! Allora, volevo chiedere appunto che cosa rappresenta Guido Lembro, Lembo per Capri. Io? Sì! Guido per Capri è come... eh? La rigura è merda! Guido ha creato qualcosa, come diceva anche lui prima, di unico e inimitabile a Capri. Io ho tanti amici e clienti stranieri che vengono a Capri e è una tappa imprescindibile quella dell'anima e core. Quindi, il massimo, il massimo che c'è a Capri. La nostra infanzia, cioè siamo cresciuti con Guido, Taverna, tutti noi siamo passati da Guido. No, va bene! Tutti complimenti a Guido. Grazie, grazie mille. Allora, facciamo entrare il premio, eh? Ecco qui la nostra fanciulla che ci porta questo premio straordinario da consegnare. Prego. In due, in due, in due. Ecco, allora... Allora, il premio consiste in un'antica spilla d'oro donata dai maestri orafi della Violetta di Alberto Viola. Con questa motivazione, eh? Con questa motivazione. A Guido Lembo, vera anima e cuore delle notti capresi, che da anni con entusiasmo, determinazione e passione, dà alla notte quel mix di passione, divertimento e sentimento. Ad un artista che con la sua musica ha girato il mondo portando dentro immagini, storie e suggestioni della sua bella Capri e aggiungo anche del suo bel pubblico, sempre presente, Guido Lembo. Grazie, grazie. E' stata tutta una serata ricca di emozioni, veramente. Anche questo regalo è bellissimo. È meravigliosa questa spilla, eh? Non so se il pubblico ce la lucina, quindi si vede meravigliosa, antica spilla, stupenda, eh? Ti donerà tantissimo, eh? Grazie. Grazie.